Do il benvenuto a Divo Pezzuto, docente Università Cattolica del Sacro Cuore. Professore ben ritrovato, buonasera. Buonasera, saluti a tutti, grazie. Professore abbiamo sentito anche questa analisi, chiaramente si cerca di capire quali saranno gli scenari macroeconomici nel 2023, l'Europa e non solo va verso una recessione. Ma è proprio su questo che ci sono molte divisioni da parte degli economisti, soprattutto su quanto sarà profonda, sull'entità di questa recessione. Lei cosa ne pensa? Certo, assolutamente. Allora, certamente molti indicatori, come il consenso generale degli economisti, la maggior parte in questo momento sta segnalando, indica chiaramente che la traiettoria è quella. Cioè si va verso il rallentamento, verso una recessione che colpisce probabilmente buona parte dell'Europa. Forse anche gli Stati Uniti, lì ovviamente o in recessione o vicino alla recessione, sta in azione molto forte, cioè crescita del 0,5 o qualcosa del genere. Quindi un rallentamento forte e anche altre parti del mondo. Questo ovviamente gli indicatori lo spiegano abbastanza bene, e gli indicatori, diciamo, che guardano anticipatori, che guardano al futuro, danno abbastanza chiaramente questo trend, legato al fatto ovviamente che il rialzo dei tassi di interesse delle banche centrali coordinate, diciamo, in sincrono a livello internazionale, almeno le principali, porta a una stretta ovviamente monetaria, e si rialzano i tassi, il costo del denaro, il costo dell'indebitamento, quindi ovviamente rallenta un po' tutto, dai mutui ai finanziamenti, al costo del capitale delle imprese. Quindi questo è in parte anche voluto, se vogliamo, perché le banche centrali cercano di raffreddare l'inflazione, di rallentare le pressioni inflazionistiche, proprio rialzando il costo del denaro, quindi rallentando, in qualche modo, partecipando al rallentamento dell'economia. E' il male necessario per, in qualche modo, rallentare l'inflazione, che in Europa, ricordiamo, verso novembre è intorno al 10%. Insomma, il percorso della Banca Centrale Europea, ci sta dicendo, professore, è un'azione dovuta, necessaria? Sì, in parte, nel senso che in America questo è più vero, perché molto è stato spinto anche da una domanda, l'accesso di liquidità, diciamo, stimoli, sussidi durante la Covid, e quanto, quindi, grande liquidità data ai consumatori, che hanno avuto grandi risparmi, e quindi, poi, riaprendo l'economia, c'è stata questa domanda molto forte. Un po' della stretta, delle sforzature delle supply chain, quindi la scarsità, e ovviamente anche la pressione sulle coste dell'energia, e ovviamente anche la corsa, a, diciamo, ai provvigionamenti, a provvigionamento delle materie prime, con la crisi dell'Ucraina, e la scarsità di materie prime. Quindi, un parte è quella, in Europa un po' meno, più legato sicuramente, più fortemente al costo dell'energia, però costo dell'energia, che in parte, se vogliamo dare un messaggio parzialmente positivo, è che lo scenario è quello, cioè, indicatori, diciamo, anticipatori ci dicono che questo è il trend, tanto per fare un esempio, quello che si chiama, tecnicamente, gli indicatori anticipatori, tipo, per esempio, leading indicators della conference board, indicatori dell'Ox, indicatori del PMI, e tutti quelli che anticipano valori che vanno in quella direzione, di rallentamento. Questo è vero, però è anche vero che la notizia positiva è che le misure che sono state prese, pensiamo anche al price cap, anche se ha i suoi limiti, sul gas, stanno in parte, almeno temporaneamente, contenendo, abbiamo visto che in questi giorni, per esempio, che il prezzo del gas, del gas è sceso sotto i 100, sì, sì, ormai. Addirittura, le ultime quotazioni parlavano di addirittura, valori sotto l'80, insomma, quindi notevolmente, rispetto al price cap di 180 euro, chilometri per l'attora. Certo, questo è temporaneo, è legato molto allo stoccaggio, è legato molto anche, ovviamente, al climamite, però, e alle forniture con, diciamo, il gas e liquidate. La cosa positiva è che gli indicatori danno quella direzione, però è anche vero che i messaggi sono che in America, per esempio, si aspettano che malgrado il settore immobiliare stia risentendo parecchio, e alcuni settori stiano rallentando abbastanza velocemente questo rialzo che continuerà probabilmente nel prossimo anno, poi dovrebbe stabilizzarsi, nel senso che, eh sì, dovrebbe stabilizzarsi nel prossimo anno, quindi ci sarà ancora un po' di spinta, rialzo, verso il prossimo anno, però poi quando raggiungeranno intorno a, più o meno, un 5% orientativamente di, diciamo, di tassi, dovrebbe in qualche modo esserci una stabilizzazione nel secondo semestre del 2023. Professore, io la devo ringraziare, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon anno e buone feste, ci risentiamo nel 2023. Assolutamente, volevo soltanto aggiungere una sola cosa, che alcuni indicatori, anticipatori, soprattutto nel settore dell'immobiliare e quant'altro, in Italia, stanno dando dei segnali però di ripresa, quindi le misure, alcune misure che stanno prendendo, c'è il calo però, sono alcuni indicatori che fanno sperare che questo possa migliorare. Tra l'altro, se ci fosse, come ci auguriamo, una qualche soluzione alla crisi ucraina nel primo mese e il prossimo anno, come dire, queste misure, tampone, che stiamo mettendo in piedi per gli utili... Avrebbero un ulteriore effetto, certo, certo. Bravissimo. Professore, la ringrazio, la devo salutare, buona giornata e rinnovo gli auguri di buon anno.